È possibile risolvere questo problema di questa schermata blu fastidiosa che ogni volta che potrebbe sempre uscirti mentre stai lavorando o facendo altro sul tuo computer, quindi possiamo risolvere il problema facendo prima una diagnostica della memoria, quindi diagnostica memoria Windows ed eccola qua. Ovviamente andrà a individuare eventuali problemi di memoria nel computer e ti uscirà così questa schermata, questa qui dove individua i problemi e poi si riavvia il computer ritornando così alla schermata del tuo sistema operativo. Se non ha rilevato nessun problema stai messo bene, se invece ha rilevato dei problemi dobbiamo continuare con altri passaggi che ti mostrerò in questo tutorial. Fai riavvio ora, individua eventuali problemi, la scelta consigliata. Oppure individua eventuali problemi al prossimo avvio del computer. Quindi se tu clicchi questo, si chiude la finestra e poi quando vai ad accendere di nuovo il computer, comincerà a individuare dei problemi prima dell'accensione del sistema operativo, quindi prima dell'avvio di Windows 10 o Windows 11. Quindi annullo un attimo qua e ora andiamo direttamente sul nostro PowerShell, Windows PowerShell e eseguilo come amministratore. In descrizione ti ho lasciato così il documento da inserire, questo codice, questo comando qua da inserire sul PowerShell, fai CTRL V e facciamo invio. Aspettiamo così questa manutenzione dell'immagine, quindi versione immagine e aspettiamo. Operazione completata. Una volta fatto ti basta solamente scrivere Exit qua su per fare invio. Ora tasto destro su Start, gestione dispositivi, vai direttamente sulla tua scheda grafica. Aggiornare i driver, cerca i driver nel computer, scegli da un elenco di driver disponibili e installi così il driver. Se no, se su questi gestioni dispositivi c'è un triangolino giallo, vuol dire che qualcosa, qualche dispositivo ha smesso di funzionare. Come puoi vedere mi si sta sempre aggiornando, qualche dispositivo nel mio computer non è installato perfettamente, quindi qua bisogna riavviare il sistema oppure controllare dietro al computer se c'è qualche cavo USB danneggiato e quindi ho qualche porta danneggiata e quindi bisogna vedere cosa posso fare. Come dicevo, se c'è un triangolo neogiano vicino a questi dispositivi, tasto destro sopra, disabilita il dispositivo e riabilita, se no disinstalla e riavvia il tuo sistema. E chiudiamo qua. Una volta fatto, andiamo sul CMD, prompt dei comandi, eseguiamolo come amministratore. Facciamo un'altra scansione, sfc, quindi vai a scrivere sfc spazio slash scanno invio. Ed ecco li qua. Protezione risorse di Windows. Abbiamo beccato qualche file danneggiato, trovato e ripristinato. I dettagli per il ripristino line sono inclusi nel file di log cbs disponibile. Qua puoi trovare i tuoi file, quindi ad esempio si possono trovare tutti i file danneggiati che hanno ripristinato direttamente in c-windows-logs-cbs.log. I dettagli per il ripristino offline sono inclusi nei file di log specificato. Quindi ha ripristinato dei file danneggiati sul mio computer. Anche qua facciamo exit e facciamo invio. Come ultimo passaggio andiamo direttamente su esplorare risorse file, questo pc. Vai direttamente sul tuo disco dove tieni così il sistema operativo. C'è proprio il logo di Windows qua sopra. Mostra attropazioni, proprietà. Strumenti. Controlla gli errori. Non sono stati rilevati errori, facciamo chiudi. Puoi anche ottimizzare così il tuo disco. Ottimizza. E puoi fare chiudi. Una volta fatto, fatte tutte queste scansioni, ti consiglio di riavviare il sistema. Per altri problemi ancora puoi commentare sotto al video. E noi ragazzi ci vediamo ad un prossimo tutorial. Ciao.